Penalizza i turisti e gli operatori del settore che dovranno comunicare la brutta notizia a chi ha già prenotato la sua vacanza a Fano. Conferenza stampa congiunta questa mattina dei rappresentanti di Federalberghi e Faita Federcamping che hanno lanciato un appello all'amministrazione comunale e in particolare all'assessore Eti e Lucarelli che mercoledì scorso aveva presentato una card per i turisti con sconti e agevolazioni. Servizi sostenuti con l'adeguamento della tassa di soggiorno omologata anche alle città limitrofe, un aumento che non trova d'accordo associazioni di categoria e attività ricettive. Prometto abbastanza bene la stagione quest'anno, abbiamo molte prenotazioni che già ci sono arrivate quindi supponiamo che quando queste famiglie che hanno prenotato arriveranno si troveranno un costo della tassa di soggiorno aumentato e non è piacevole quindi chiediamo di rivederci dopo l'estate insieme e decidere gli aumenti, le cose da fare sederci quindi a un tavolo, essere convocati dall'amministrazione per poi far partire i nuovi costi della tassa di soggiorno a gennaio del 2024. Infatti, come spiegato in conferenza stampa, non c'è stato un incontro ufficiale con gli operatori del turismo ma solo un tavolo dell'economia e ormai i listini sono stati pubblicati e forniti ai clienti. Cecchini, quali sono secondo voi le priorità? Noi come abbiamo ribadito più di una volta dobbiamo lavorare molto sull'accoglienza, avere dei servizi tipo bagni pubblici e anche naturalmente curare un po' più il verde non solo nella città ma anche fuori dalla città perché abbiamo circa 20 chilometri di costa e in 20 chilometri di costa non c'è solo Fano ma c'è Torrette, Ponte e Sasso. E naturalmente quello che abbiamo sempre ribadito dobbiamo chiedere e vedere anche dei servizi tipo il bike, piste ciclabili per i turisti e dovevamo parlare con l'amministrazione di queste cose con tutti gli operatori turistici tipo B&B, tipo campeggi, tipo alberghi per fare anche un punto della situazione e delle richieste che c'è sull'accoglienza. Avete parlato anche di combattere l'abusivismo come tra le priorità per questa città, in che modo? Bisogna assolutamente che noi questo abusivismo cominciamo a combatterlo, non possiamo avere la piazza di Torrette piena dal venerdì sera fino a lunedì con i camper perché si piazzano lì, poi arrivi i visi e dice ma noi non possiamo fare niente perché è di giorno ma viene di notte allora quando hanno messo giù i piedini che dormono allora lì si possono togliere, cioè c'è stato un interesse molto fievole dell'amministrazione, non ha mai capito questo discorso qui quindi io dico se vai a aumentare la tassa di soggiorno perché vuoi più soldi cerchiamo di incassarne di più di tassa di soggiorno allora dando la possibilità appunto a questi camper di pagare veramente quello che dobbiamo pagare, se è un parcheggio che possiamo spostarlo e farne un'area di sosta possiamo prendere la nostra tariffa normale, pagano la tassa di soggiorno anche loro e aumenta e per quanto riguarda la tassa di soggiorno che ha messo adesso paragonandola a un discorso di card è una roba che noi non riusciamo a capirla perché non è che siamo noi un parma, Firenze, qui è una città di mare dove c'è una gente fidelizzata che è 50 anni che viene, non è che gli interessa la card, vogliono fare le escursioni, andare alle grotte, andare a Urbino, andare a fare i loro giretti senza problemi io non ho capito da dove l'ha tirata fuori sta card, comunque siamo contrari noi e vogliamo che a settembre si possa ridiscutere il tutto mettendoci a sedere tutti e vediamo cosa possiamo tirare fuori